Apple News, io sono Stefano, una delle voci del lato bello del ring e sono qua anche oggi per portarvi un contenuto che riguarda il mondo del wrestling e ovviamente le news che riguardano il mondo del wrestling. Lo facciamo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, anche se questa settimana sarà una settimana corta, faremo il ponte, domani è festa, venerdì non andremo in trasmissione, cercheremo di dare quanto più possibile il nostro contributo anche la settimana prossima e poi faremo una pausa diciamo intorno a Natale, dico intorno a Natale perché in effetti noi chiuderemo il 16 di dicembre, quindi sì, vicino a Natale, ma in realtà mancano ancora dieci giorni, quindi poi potreste dire vabbè ma avete ancora una settimana. In realtà abbiamo in mente dei cambiamenti importanti e questi cambiamenti importanti ovviamente vogliamo cercare di realizzarli in un periodo in cui effettivamente c'è anche un pochino meno attenzione intorno al mondo del wrestling, c'è più attenzione magari al discorso della famiglia, dei regali e se volete farci dei regali sono ben accetti. E diciamo che la cosa interessante per noi sarà cercare di capire come riusciremo effettivamente ad attuare le nostre cose cambiando qualcosina e rinnovando. La nostra voglia di rinnovare deriva dal fatto che non ci piace vivere in un ambiente statico, rinnovamento, magari grafiche nuove, magari ambiente nuovo, magari cose nuove. Allora il punto sarà cercare di ridurre il più possibile lo stress e aumentare il più possibile la fattibilità di questo prodotto, la gestione anche di questo prodotto. E quindi cercheremo di capire come fare. Sarà divertente, sarà simpatico, sarà un bel processo che attueremo e che vi porteremo davanti. Non sono certo di riuscire a fare 30 minuti oggi, perché ovviamente le notizie sono poche e non sono nemmeno così succose. Sì, ok, il discorso William Regal, adesso ne parliamo, ma in realtà è ancora un pur parler in parte, perché l'ufficialità verrà data alla conferenza che ci sarà domani, conferenza, diciamo, internetiana ovviamente, di Tony Khan, che è la classica chiamata di gruppo, diciamo, prima di un evento in pay per view. Lo fa per ogni evento della All Elite, lo fa anche per gli eventi della Ring of Honor. Prima lo faceva Cody e adesso lo fa Tony Khan. Quindi vedremo che cosa succederà. Io comunque cercherò di fare il più possibile per darvi un buon contenuto che riguarda le news, che sia da 17, 22, 29 o 30 minuti, poi accettate quello che è, perché comunque noi cerchiamo di dare sempre il massimo. Ciao carissimo, ciao carissimo Settimio, uno dei nostri redattori, uno di quelli che ha scritto le news per oggi, che lui è contentissimo di fare pausa durante il periodo natalizio, pausa che non farà, perché ovviamente in realtà le Parpo News continueranno come se niente fosse sui nostri social, che io vi invito a seguire. Se siete su Twitch in questo momento a guardare live, sapete già cosa dovete fare, cercare il lato viola del ring su Instagram, soprattutto perché Facebook mi fa cagare e non lo uso. Su Instagram sicuramente sì, e poi ovviamente da tutte le altre parti, tutti i nostri progetti, vari gruppi, iscrivetevi, abbonatevi. Se siete su YouTube ovviamente sapete già che cosa dovete fare, lasciare un like, perché questi contenuti arrivino a quante più persone possibili e si riesca sempre di più ad ottenere consensi e ad avere persone che ci seguono. Perché comunque è bello fare queste cose, ma se le facciamo da soli ci divertiamo poco. Eccoci qua quindi con la prima grande news. La prima grande news è che Jim Ross conferma le voci su William Regal. Quali sono le voci su William Regal? Sivo cifra già da qualche giorno che il contratto di William Regal sarebbe stato corto. Per corto, attenzione perché si intendeva novembre. Per corto si intendeva un anno. Questo era ciò che diceva Dave Meltzer per esempio. Poi Dave Meltzer ha detto no, saranno tre anni, poi no un anno. In realtà a quanto pare il contratto di William Regal è stato davvero corto. Il suo arrivo è stato a Revolution del 2022 e probabilmente Full Gear, dieci giorni dopo Full Gear, c'è stata la fine del suo contratto. Ora, Jim Ross come fa a confermare? Come mai ci sentiamo di dire che ha confermato? Perché ha parlato di William Regal al passato. In un intervento che ha fatto nel suo podcast, Grilling JR, ha ovviamente parlato delle situazioni, ma ne ha parlato al passato. William Regal è stato, William Regal ha fatto, William Regal era sempre presente, William Regal qua, William Regal là. Ha detto che sarà difficile sostituirlo, praticamente impossibile sostituirlo. E quindi, a meno di una grossa smentita da parte di Tony Khan che deve arrivare alla conferenza in cui si è già detto che si parlerà anche di William Regal, beh, a quel punto, a meno che non ci sia una grossa smentita, effettivamente William Regal sarebbe fuori dalla... o l'elitto. Il motivo? Beh, non lo conosciamo. Sicuramente non deve essere stata una situazione economica. Credo di più che sia stato un po' il desiderio di riprendere il vecchio lavoro, quello di NXT, dello sviluppo dei giovani che possono arrivare e fare affidamento a lui, avere un ufficio dedicato a lui per lo sviluppo specifico, perché effettivamente ha un pozzo di conoscenza, di scienza, di esperienza, anche quindi è evidente che lui abbia un certo tipo di spessore che sia in grado di trasmettere tanto. E ovviamente il gioco sarebbe quello di metterlo lì, dove ha sempre lavorato, dove è sempre stato per otto anni, insomma, è stato presente, ok? Vedremo. Vedremo che cosa succederà. Sicuramente vi invito a seguire due cose. Il video che uscirà oggi, R14, sul canale di W Italian Podcast, che faccio io, dove vado a parlare un attimino di quelle che potrebbero essere alcune opzioni, possibilità, situazioni, riguardo William Regal e riguardo l'olio elite in generale. E poi ovviamente quello che sarà la nostra preview dell'evento della Ring of Honor, che faremo giovedì sera in diretta sul canale YouTube di AW Italian Podcast, in cui sicuramente avremo anche già una traccia di quella che è stata la conferenza di Tony Khan. E quindi sapremo qualcosina di più. E quindi ne parleremo. Toglierà, sì, dello spazio e la card della Ring of Honor, però neanche tanto. Cioè non è neanche quello il problema. Sicuramente ne parliamo. Si è scatenata una shitstorm? In generale sì. In generale sì. Credo ci siano un po' di elementi da guardare e vi consiglio caldamente di vedere il video delle 14 sul canale di AW Italian Podcast, che comunque credo aver tirato fuori qualche cosina di interessante a riguardo, che non è solo per William Regal, che è un po' in generale, un po' in un contesto generale. Però, però, vedremo, vedremo, vedremo. Allora, seconda notizia di oggi. C'è un'assenza programmata per SmackDown ed è un'assenza di Drew McIntyre. Drew McIntyre doveva partecipare a un match titolato, un match per i titoli di coppia, il 9 dicembre a SmackDown. Però, il problema che ha avuto è un piccolo infortunio non esattamente non esattamente specificato, però i Medici gli hanno tolto la possibilità di andare e lottare. Praticamente, sarebbe stato insieme a Shimos contro gli Usos per i titoli di coppia. Ora, al di là del fatto che Drew McIntyre e Shimos sicuramente sono qualcosa di interessante che da vedere dà e quindi potevano anche essere insomma, una mina vagante per gli Usos. Nulla di che. Però in generale bisogna preservare sempre i lottatori e quello che fanno, quello che può succedere a loro sicuramente. Lui però ci ha tenuto a dire due parole e quindi si è scusato, si è mostrato normale, dispiaciuto e ha promesso di tornare prestissimo in azione. e probabilmente tutta questa cosa qui è parte di una storia, no? Fa parte del fatto di magari poter allungare in qualche modo il brodo e magari hanno capito che effettivamente era un tag team che poteva funzionare e magari sprecare in un certo modo a SmackDown poteva essere così. Però, vedremo. intanto il rimpiazzo per Drew McIntyre sarà Butch che comunque è sempre un bel vedere in azione e sarà quello lì il match di Coppy Sheamus e Butch contro gli Usos e quindi vedremo, vedremo. La vittoria avvenuta da questi due contro Riddle e Kevin Owens gli ha garantito quindi uno spazio all'interno della puntata di SmackDown e vedremo cosa succederà. Colt Cabana Colt Cabana ha parlato un pochino di quello che è secondo lui stato sempre il backstage della Ringovono e ne ha parlato in un modo abbastanza concreto per una persona come me che vive sostanzialmente un backstage piccolo ma comunque un backstage che è quello della Viva Wrestling vi posso garantire che effettivamente la dinamica che lui ha spiegato io l'ho vista anche se in piccolo l'ho vista. cioè lui dice il gruppo riesce a unirsi a stringersi nel momento in cui c'è qualche problema nel momento in cui c'è una situazione di scomodo il gruppo fa gruppo si unisce si interseca si cementifica e questo consente di creare una specie di situazione di ultimatum per quelle persone che diventano o che arrivano e si innestano come me le marce quindi se arriva qualcuno che crea dei problemi che ha delle discussioni il resto del backstage riesce a unirsi riesce a creare una situazione compatta in cui si tende quasi a tenere fuori dai giochi la persona che crea dei problemi e questo ha aiutato moltissimo anche nei momenti peggiori della ringovono ha aiutato tanto a vedersi sviluppare un senso di protezione di unione di coesione e questa è una cosa che lui piace molto una cosa che lui auspica e che vede anche in altri spogliatoi e quindi questo è sicuramente positivo un'altra cosa però di cui ha parlato col cabana è stato il fatto di aver fatto quel famoso match con Chris Jericho a Dynamite a quanto pare non è stata un'idea di Tony Khan qui si scoprono gli altarini non è stata un'idea di Tony Khan ma un'idea di Chris Jericho il quale avendo totale controllo delle proprie storyline ma anche totale fiducia da parte di Tony Khan sostanzialmente ha Tony Khan accettato che Chris Jericho chiamasse e volesse col cabana Chris Jericho quindi è andato in dirigenza ha detto mi serve a Baltimore Maryland col cabana voglio che sia lui ad affrontarmi per fare questo questo match lui stava lottando contro gli ex campioni e ha chiamato col cabana col cabana quindi è arrivato ha parlato due minuti con Tony Khan nella gorilla position e sostanzialmente per il resto lui è andato a lottato lui dice io sono disponibile sono sotto contratto quindi nel momento in cui tu mi chiami mi fai la convocazione io vengo ci mancherebbe altro sono disposto a lottare se c'è da lottare a fare segmenti se c'è da fare dei segmenti a fare da producer se c'è da fare da producer quello che è il ruolo che voi mi chiedete di fare io lo faccio evidentemente logicamente se mi chiamate cioè lui non si fa il problema quello che molte volte noi non non riusciamo a intendere anche quando sostanzialmente vediamo uno poco utilizzato questo è un problema veramente importante è che questo è il wrestling cioè il wrestling è esattamente tu sei sotto contratto con me e sei a disposizione io ti chiamo tu vieni non ti chiamo stai a casa se ti chiamo ti chiamo vieni ma non hai niente da fare sei soltanto lì come tappabuchi eventuale tu vieni e fai il tappabuchi ma non è un problema ok è un po' come se voi doveste lavorare in un posto in cui c'è da fare tante cose c'è da stare in una postazione magari creare degli oggetti pulire la propria postazione sistemare delle cose dove ci sono gli armadietti ok e andate a lavorare e magari voi avete finito di costruire e vi mandano gli armadietti a pulire lo sapete che c'è da fare anche quello che non è il massimo del vostro lavoro che non è la cosa che vi piace di più del vostro lavoro ma lo sapete già nel wrestling è uguale il wrestling è una card per ogni show e questa card è confinata da alcuni atleti che servono sono utili per creare le storyline per creare le situazioni verso la risoluzione della storia finale di un match di una storia di quindi se servi tu vai se non servi o stai a casa o fai da rimpiazzo ma non è un problema perché poi un giorno servirai tu e quindi ci sarai tu lì i lottatori lo sanno i lottatori vivono ogni singolo momento ogni singolo giorno così quindi non lo dobbiamo inventare noi non dobbiamo dire però devono utilizzarlo non dipende né da noi né dai lottatori e i lottatori non stanno male per quello perché fa parte del loro gioco fa parte del loro lavoro e quindi questa è già una situazione che insomma spiegata col cabana dà un attimino una luce in più su quello che stiamo effettivamente vedendo poi è stato ascoltato anche Ian Rickaboni il commentatore della Ringovono il quale si è proposto a Tony Khan per lavorare in Ringovono semplicemente quando ha saputo che c'era stata la diciamo l'acquisto da parte di Tony Khan e Tony Khan lo ha preso ma ce l'ha a gettone sostanzialmente non ha un un contratto come potrebbero avere Excalibur e altri quindi nel momento in cui non servirà più Ian Rickaboni o in qualche modo dovrà essere sostituito verrà effettivamente sostituito con il fatto che però da quando è partita la Ringovono o da quando lui si è proposto Tony Khan l'ha sempre chiamato l'ha chiamato Dynamite l'ha chiamato ovviamente per il pay per view della Ringovono cioè lui comunque gli è stato dato ovviamente sempre grande possibilità di lavoro secondo lui nell'aria c'è qualcosa secondo lui come sono state messe giù delle cose ha anche confermato la firma del contratto di Maria Cannellis di suo marito di Matt Haven insomma ci sono delle persone che sono effettivamente arrivate e sono lì ai box in attesa il rilancio di Brian Cage per esempio insomma un po' di situazioni che in effetti potrebbero potrebbero dare potrebbero dare potrebbero portare all'idea che ci sia nel prossimo futuro uno show della Ringovono è chiaro che gli spiragli sono pochi la televisione l'ambiente televisivo è cambiato molto proprio negli ultimi periodi perché in concomitanza con l'arrivo di Tony Khan alla Ringovono c'è stato anche un piccolo cambiamento all'interno proprio dei panicesti televisivi c'è stato per esempio la fusione di due gruppi molto grandi come quello di Discovery e quello insomma NBC è cambiata tantissimo Fox no non Fox NBC e Warner Discovery e Warner quindi c'è stata sì Discovery e Warner c'è stata quindi una netta ridistribuzione dei programmi e un coinvolgimento di più persone con più idee per risistemare i palinsesti televisivi però non c'è stato il posto per inserire una Ringovono almeno quello che sappiamo noi quindi bisognerà capire intanto però la Ringovono ha cambiato modificato rinnovato il proprio sito e le possibilità perché comunque questa cosa sia un altro dei tasselli che porta a uno show televisivo o comunque a uno show sono importanti ora vedremo come verrà gestito probabilmente anche il buon Tony Khan deve orientarsi non è sempre semplice lui aveva la AW adesso ha AW e Ringovonor la Ringovonor va gestita in qualche modo sicuramente è uno dei primi pensieri di Tony Khan quando si sveglia la mattina non pensiamo che non ci stia pensando scusate il gioco di parole ma è così quindi vedremo come questo futuro verrà effettivamente a crearsi a costituirsi in modo più concreto però Ricca Boni dice io ho una buona fiducia in quello che sta succedendo intanto salutiamo anche Fabri ciao Fabri ben arrivato buongiorno c'è anche un piccolo aggiornamento su quelli che sono i tappings di Dark perché? perché Dark nel mese di agosto è stato gli Universal Studios per creare una serie di match che sono poi stati mandati in onda come puntate e sostanzialmente hanno creato hanno dato l'opportunità all'AW di resettare un attimino sistemare Dark il quale poi una volta che ha concluso diciamo tutte le puntate createsi durante i tapings agli Universal Studios ha ricominciato a essere registrato durante gli show itineranti dell'Aul Elite il problema è che ovviamente è un peso cioè oggi andare a vedere l'Aul Elite registrano la puntata magari registrano Rampage magari registrano Dark Elevation magari registrano Dark è lunga è lunga allora si torna il 17 dicembre quindi sabato prossimo agli Universal Studios e si ricomincia a fare i tapings di Dark in modo tale da poter dare un pochino più di respiro per un po' di tempo è vero che verranno utilizzati meno i lottatori locali diciamo quelli che vengono utilizzati oggi molte volte Dark a cui si dà ovviamente la possibilità di lottare davanti a un grande pubblico delle arene proprio però è anche vero che molti sono contenti perché ci sono ottime prenotazioni da parte dei del pubblico che vuole andare a vedere i tapings di Dark e quindi bene così arrivano soldi si pagano gli studios gli studios sono contenti si può pensare di creare tanti contenuti assolutamente positivo il fatto che verranno fatti i nuovi tapings lì proprio agli Universal Studios che sono stati anche la casa di Impact per tantissimo tempo i primi Impact ma attenzione perché chiudiamo praticamente con l'ultima news di oggi cioè la run di Kane Velasquez in AAA allora Kane Velasquez ha avuto un anno complicato a inizio di anno sostanzialmente è stato messo in carcere per il tentato omicidio di una persona la quale secondo insomma quello che abbiamo potuto apprendere da quello che è uscito le news e quant'altro una persona che era uno stalker del figlio di Kane Velasquez Kane Velasquez però ha aperto il fuoco contro l'automobile dove c'era dentro questa persona e altri ovviamente ferendoli gravemente diciamo che non è esattamente la situazione di legittima difesa cioè almeno così non sembra ovviamente gli inquirenti hanno la loro idea e hanno sicuramente un iter da seguire che non è il nostro tutto quello che serve per fare effettivamente chiarezza e giustizia noi non centriamo niente con questa cosa qua vi raccontiamo però quello che sta succedendo perché se è vero che è stato in carcere per tanto tempo Kane Velasquez è anche vero che a novembre è riuscito a ottenere a settembre se non sbaglio l'uscita di prigione attraverso il pagamento di una cauzione quindi dopo un bel po' di richieste da parte di Kane Velasquez la possibilità di uscire dalla prigione gli è stata accordata ovviamente non è libero è in libertà vigilata quindi devono tenere conto del fatto che tutti gli spostamenti che devono essere fatti da Kane Velasquez hanno delle limitazioni ma la AAA ha chiesto e ottenuto per Kane Velasquez la possibilità di partecipare a uno show che verrà fatto a fine anno a Carston credo in Arizona in ogni caso in uno dei territori nella parte degli Stati Uniti più a sud questo match si farà ma non è l'unico match che si farà perché a quanto pare è già stato annunciato o comunque si vocifera in modo abbastanza pesante di un impiego di Kane Velasquez anche nel weekend di WrestleMania sempre per la AAA e pare che il contratto che è stato stipulato da Kane Velasquez e la AAA sia di un totale di sette apparizioni quindi oltre a queste due altre cinque per il 2023 situazione che è stata resa possibile presumiamo chi ha tirato fuori tutta questa storia è un giornalista di Wrestling Inc beh presumiamo che tutto sia possibile grazie al fatto che appunto ha avuto la possibilità di andare attraverso la libertà vigilata attraverso la cauzione fuori dal carcere ma c'è un però mentre vanno avanti ovviamente le istruttorie mentre si sta vagliando ancora la possibilità che effettivamente sia o non sia colpevole lui dovrà essere accompagnato agli show da un agente di polizia quindi c'è un però grande che è chi ti accompagna vai da solo no vado con un agente di polizia questo agente di polizia accompagnandolo gli consentirà di andare in tutto il Messico e in alcune zone degli Stati Uniti che ovviamente saranno quelle più vicine al confine verosimilmente dove ci saranno anche tanti poliziotti americani in grado di stanare un eventuale tentativo di fuga bloccarlo e riportare in Messico il lottatore che monitorato a vista sarà ovviamente impiegato dalla AAA e va bene ma con un po' di limitazioni che sono anche giuste e ovvie quello che so io ah ciao Cliff benvenuto oggi è una festa finalmente che si sentite le news in diretta sei però arrivato un po' tardi perché questa era pensa l'ultima news di oggi il poliziotto è al sicuro con Kane Velasquez assolutamente assolutamente l'importante è che questo poliziotto non si chiami Abel altrimenti è finita per tutti insomma non sappiamo sono cose che possono succedere quindi Kane Velasquez ha iniziato il suo lavoro del 2022 in carcere e lo ha finito non lo so della AAA buono diciamo anche questo risultato per il Kane Velasquez queste erano le news di oggi non riusciamo ad arrivare a 30 minuti ma comunque siamo riusciti a farne più di 25 quindi sono estremamente contento avendo poco da dire da tirare fuori abbiamo comunque fatto una puntata mi viene in mente come chiude la morte dei miracoli di Frankie Energy c'è questa voce registrata che dice a questo punto possiamo dire di avere un disco oggi possiamo dire di aver avuto delle news e quindi sono molto molto contento andiamo in pausa per due giorni e poi la prossima settimana da lunedì a venerdì gli appuntamenti saranno da lunedì al giovedì alle 10 del mattino venerdì alle 11 e quindi contentissimi di partecipare poi venerdì quando chiuderemo e chiuderà Fabrizio se non sbaglio la prossima settimana venerdì chiuderemo per un mese circa al nostro ritorno che non sarà il lunedì subito dopo la Befana ma sarà quello successivo ci saranno dei cambiamenti e capirete lo scoprirete questi cambiamenti all'interno dei nostri social dei nostri gruppi telegram di tutto quanto insomma vi teniamo aggiornati non vi preoccupate questo bel progettino delle news che era partito molto bene poi si è un po' arenato e forse ha bisogno di essere un attimino rinnovato perché in questi mesi abbiamo un po' preso le misure su come farlo lo dobbiamo ancora rifinire lo dobbiamo ancora sgrezzare un pochino ma siamo pronti per tornare come vi dicevo dopo le vacanze di Natale intanto io vi saluto vi ringrazio godetevi questo weekend lungo sperando che ci siano un bel po' di news belle corpose per lunedì martedì e gli altri giorni della prossima settimana io vi saluto vi ringrazio saluto tutta la chat che è stata qua con noi tutti quelli che ci hanno recuperato dopo un saluto e un abbraccio sono Stefano una delle voci del lato vero del ring noi ce li sentiamo alla prossima